questa è la nuova borsa portanassa della serie aero una borsa grande una borsa robusta una borsa stagna questa è fatta di un materiale unico e unica borsa nella serie aero essere costituita in questo ma specialissimo materiale è costituito da un fondo doppio per resistere perché questa borsa contiene fino a tre nasse come potete vedere una borsa bellissima una borsa studiata in ogni suo piccolo dettaglio come dicevamo prima è stagna quindi la capacità di trattenere i liquidi quando mare la capovolgiamo ma soprattutto di trattenere gli odori a volte capita di fare lunghi tragitti dopo una gara e di avere la nasa ancora bagnata bene da questa borsa gli odori non escono quindi in macchina tra virgolette si respira aria pulita ma la caratteristica di avere le diciamo le giunture termosaldate sia per quanto riguarda le parti laterali ma soprattutto anche per le maniglie perché quando è sollecitata da pesi importanti non deve cedere vedete anche due grossi ganci servono per quei lunghi tragitti quando la colleghiamo alla carriola quindi quando effettivamente sia pesante contenente magari più un'asse ma soprattutto quando sono bagnate questa parte viene fortemente sollecitata quindi la borsa a due grossi ganci molto pratici a una cosa importante perché quando vogliamo possiamo aprire soltanto la parte per estrarre la testa di guadino quindi un reparto apposito dove infilare unicamente le teste senza doverle per forza unificare a quello che è la nasa è una borsa grande una borsa prevista anche di spallaccio perché effettivamente se non possiamo come dire trasportarla con la corriola possiamo trasportare semplicemente a mano come vedete una borsa effettivamente bella una borsa grande ma soprattutto impermeabilizzata e stagna grazie